Buonasera a tutti, saluto tutti, saluto Eva, saluto tutti i membri di questa bellissima idea del 48 ore che io sostengo e condivido e vivo da tempo, nel senso che la seguo ovunque sono, in questo caso cerco di giustificarmi, io sono assente perché sto lavorando e quindi vi era dovuto un messaggio di saluto e anche per premiare, visto che sono un giurato del 48 ore in project dal diverso tempo e quest'anno come nuovo presidente o da solo, giurato della Rufa, la scuola Rufa dove io sono un ospite, un professore ospite, faccio delle presenze continuamente in questa scuola, mi piace molto confrontarmi con le nuove generazioni, mi piace anche lavorarci perché io adesso proprio non sono lì con voi perché sto girando ad Atiago un cortometraggio, un film breve, dopo un film che ho finito, un esordio proprio recentemente in Calabria. Detto questo è venuto il momento di premiare, dopo una lunga, lunghissima riflessione su tutti i corti che avete mandato, sono tutte delle cose molto belle, visionarie, alcuni di genere, devo dire che c'è un panorama di autori giovani che hanno voglia di raccontare disperazione, malesseri vari, anche viaggiando sul genere, ecco che è una cosa che è molto curiosa in Italia dopo che l'avevamo abbandonata, adesso cerchiamo di ritornare al cinema di genere che comunque l'abbiamo quasi inventato per certi versi. Comunque dopo una lunga riflessione ho deciso di premiare un corto dove c'è, ecco, do una motivazione, dove c'è una grande riflessione sull'umanità, è una cosa che mi ha incuriosito molto perché gli attori sono straordinari, adesso non riesco a citarli tutti perché sono tantissimi, cioè sono tre di fatto, però per me sono tantissimi ricordarli, però sono tutti bravi, è stato bravissimo anche il regista, è girato in maniera molto semplice e devo dire che c'è una grande riflessione, cioè la macchina alla presa rimane a guardare questi tre attori molto bravi che considerano e che si considerano animali come lo siamo di fatto nella vita, ma non lo consideriamo mai, facciamo sempre uno specchio, ecco in questo caso il cinema ci dà questa possibilità e nel divertimento, nel grottesco questi tre personaggi simulano di essere degli animali, animali, uno è un leone, l'altro sono una iena, quindi niente, vabbè, ho detto tutto. Il video che per me è considerato dopo aver fatto una precisazione sul tema è di Francesco Agostini, scritto da Valentina Lucca, The New Spaker, un bellissimo corto che comunque su quello che vi ho detto è una grande considerazione sull'umanità, sul modo di comportarsi, su una morale quasi grottesca, nel senso che poi col grottesco nel cinema si arriva a tutto e quindi ho sentito il dovere di premiarlo indipendentemente anche dall'idea, ma anche dal modo in cui è stato interpretato, devo dire che sono tutti bravi, gli attori mi scuseranno per non citarli, però sono veramente straordinari, riescono a trasformarsi, riescono a diventare quello che poi è l'idea del film, quindi in questo caso riescono a evocare o a imitare gli animali con una bravura eccellente, quindi che dire, complimenti, arrivederci a tutti, spero il prossimo anno di esserci perché su 48 ore io ci conto moltissimo, sono delle, ecco è un giochi senza frontiere della mente, saluto a tutti, ciao! Grazie a tutti!